Sì, anche io volevo dichiarare a nome del Movimento 5 Stelle che in aula resteremo naturalmente io e il collega Crippa, soltanto ed esclusivamente per non far decadere i nostri emendamenti ed abbiamo siglato quelli di tutte le altre componenti politiche allo stesso scopo, al solo fine appunto di non farli decadere. Naturalmente, a seguito di queste dichiarazioni, credo che vada anche fatto notare che però effettivamente forse se le posizioni sono uscite c'è anche un malumore nella maggioranza e credo che queste cose vadano messe agli atti, vadano fatte segnalare e non se ne può uscire con una dichiarazione di qualcuno che magari si alza in aula e con un colpo di spugna tenta di giustificare tutto quello che è accaduto fino adesso. Io ci tengo che questa cosa rimanga agli atti. Grazie.